Per oggi voglio farvi vedere i miei accessori di Barbie, allora iniziamo, ci sta, per primo c'è questa borsetta a forma di orso con questi occhiettini, molto grande e bella. Poi c'è questo casco che mi è uscita da Barbie con la bicicletta con i cagnolini, questi buchetti qua è The Fuchsia, scusate se sta questo filo però lo sto caricando, così. Questa borsa che mi è uscita da una Barbie da collezione, così molto morbida e manico nero. Poi c'è la colonna di Ken, è uscita da Ken Principe, così dorata. Poi c'è la colonna di Rapunzel con questi diamantini di viola. Poi c'è questa piccola borsetta, che uso per le piccole, con questi diamantini qua e fatta così con i nomi. Poi c'è questa, così, con queste tasche, si possono mettere tipo i foglietti dentro, non lo so. Poi c'è questo codino che uso per le Barbie, però me lo metto pure io giallo con il fiore. Poi c'è questa cintura che mi è uscita da Aurora, che tu ci puoi attaccare i diamanti sopra. Ed è tutta dorata e puoi scegliere tu, metterla larga o stretta. Poi c'è questa rivista di moda, che ho creato io, vedete? Ho creato io, con la carta che avevo. Poi c'è questa sacchetta dorata che mi è uscita dalla Baraks, così. E tutta con i due antini. Poi c'è questo libro della moda, 2, con molte pagine di vestiti dentro. Questo l'ha fatta una mia amica, io l'ho imitato un po' male, però è carino con questa. Poi c'è questa borsa nera, così che si può aprire, vedete? Aspettate, aspettate, poi aspettate che la prima o il secondo, che è un po' difficile. Ah, come si chiude adesso? Ok, chiusa. Poi c'è il snowboard, così rosa, con una delle cose che mi mette il biglio, e va velocissimo. Così con queste linee, le ruote sono fucsion, guardate, fucsion. Poi c'è questo paio di scarpe, perché sono uscite con le vestiti, e sono così, con questa pelliccia, fucsion. Poi c'è questa sciarpa, che è fatta così tutte a righette, poi c'è questo specchio, scusate. Poi c'è questo specchio, vuoi che vedi il mio tablet, così, poi c'è questa borsetta fucsion, così. Poi c'è questa corroncina, con qua i pettinini, e poi un'altra sciarpa che ho fatto con il nostro. Poi c'è questa spugnetta per lavare. Poi c'è questo tappetino. Poi c'è questa collana di mini. Poi c'è questa tic tac che ho di uso per fare scatolini. Poi c'è questa borsa che mi è uscita sempre da una Barbie da collezioni. Poi ci sono questi stivari azzurri. Poi c'è questa borsa che mi è uscita da una cosa di Barbie che poi vi farò vedere, che è una borsa da amare che si possono mettere così dentro. Poi c'è questo alberto che mi ha regalato la mia amica del cuore. Eccola che ho fatto i video di centro commerciale. C'è questa collana dorata con il cuore con le ali. Poi c'è questa spazzola bianco per la conchiglia. Poi c'è questa altra spazzola che ho questo in media forma del cuore. Poi c'è questo altro enorme specchio gigante. Spesso la faccio perché riesco a non farmi vedere. Così. Potrò vedere il tablet. Ecco. Ecco, è un piccoletto che lo fa a mantenere. E poi dietro è così. Poi c'è questo paio di stivali verdi. Così sta questo ferrugino portafortuna. Poi c'è questa corsetta di Barbie dorata. Così stanno questi occhiali a forma di cuore dorati. Mi è uscito da questa cosa. Poi c'è questo beletto che uso come scialletto. a letto. Così. Poi c'è questa foto. Questa cornice che ci devo mettere una foto. Poi c'è questa borsa d'argento con il fiorellino. Poi c'è quest'altro sempre d'argento con il diamante che lo fa chiudere. Poi c'è questo fiorellino. Poi c'è questo fiorellino che lo uso per le decorazioni per la casa. Poi ci sono queste scappette verde acqua. Poi ci sono qualche invece che sono aperte. Così. Poi ci sono questa borsetta con tutti. Poi ci sono le buste con una scritta Malibu Ave. E una coschetta Barbie Pink Funny. C'è pure fucsing. Poi c'è questo barcelletto piccolino. Poi c'è questa borsettina che mi ero fatta io. cucita a mano. E così. Che si apre così e si chiude. Ed è bellissimo infatti. Quasi ci sono questi schivali che però sono uguali a quelli. Solo che vedete che sono più scuri questi. Vedete? Poi c'è questo fiorellino che uso come decorazione. C'è questa spazzola così che mi è uscito a bianca neve. Poi c'è questo castellino che lo uso per le piccole. Quindi appunto, vabbè, sono un sacco di giochini così. Poi c'è questa spazzola con Rainbow Dash. Poi c'è questa borsa fucsing. Poi c'è queste cose che mi trovo pure l'altro. Sono proprio in conto. Poi qua, questi io li uso per portare gli oggetti. Perché queste sono delle cose di Halloween. In modo che dentro c'è un occhio commosso da mangiare. E queste sono pure come i paninozzi. Io ci metto cose che faccio tantissime. Non li faccio vedere tutti. Poi c'è questa borsettina della neve. Si apre così. Poi c'è questa candela che mi è uscita a castello di perle. Poi c'è questa malattina di millimetro. Vedete cosa ci fa qua. Poi c'è il piperon della piccola che mi è uscita a carrozzino. Non so perché è così grande o barbello. Poi c'è questa spazzola che mi è uscita a una fatina che poi vi farò vedere tutta la pietrina. Tutta con le pietrine. Poi c'è questa spazzola che si vale. Che guardate qua tiene i bucchetti. Quante cose. Poi c'è questo bambino. Io vi faccio vedere una. Che vedete sono troppo troppo. Guardate. E' un po' di farvi vedere tutti. Mi farete fuori. Poi c'è questa scarpa con il fiocco. Aspettate. Poi c'è questo casco. Così tutto rosa. Qua c'è questa barbie. Qua ci sono questi le pelle che sono le castelle di toilet. Infatti lo so purebbero i buoni. Tutti in due. Qua ci sono questi stivali con la pelliccia qua. Mi sono uscite con quelli rosa. Qui sono questi che mi sono uscite con quelli violi. Invece vorrei più bassi. Poi c'è la sua capelli. Fucsian. Facciamo quello di grigio. Poi c'è la casa. Poi c'è questo paio di scarpe. Poi c'è questa collana con i cerchietti. Poi c'è questa coroncina con la farfalla. Poi c'è questa collana. Poi c'è questa collana. Poi c'è questa collana. Poi c'è questa acqua con così. Romandina. E' fingersè questa collana ed ecco la�� collana. E' pulling the bottom. E' questa borsa che mi sono uscita sempre da me. Poi c'è questa collana. metto la spazzola tipo quella del primo ci sono davanti bassi con il fiocchetto poi ci sta questo specchietto che ha ancora su questo che sarebbe un anello però io non lo metto e quindi lo uso per le parti ma lo metto per il video questa l'ho trovata la compagna finalmente questo è qua che guardate sono flu spesso si vede non si riesce a vedere bene come l'autocamera ma ci sono questi scarpecci di un'asse che ce l'ho portato in là di classe poi ci sono queste molto alte sono queste che sono dei nanetti poi ci sono questi stivali neri poi c'è questa borsettina piccolina blu poi c'è questa spazzola con due cuori qua poi c'è questa acqua così che ha forma di fiore qua poi c'è un'altra colla di mini questo paio di scarpe viola con il tacco poi c'è questo peccine poi c'è questo peccine poi c'è questa bassetta gialla che è una delle comprate da poco e poi lo metto così poi l'ho portato con un po' la scena per ultimo sono questi sandalti alti così non sono come quelli sono questi che aspettate questo è un certo e qua vedete questi 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 sono diversi qua così così allora ci vediamo al prossimo ci vediamo al prossimo vi iscrivetevi al canale lasciate mi piace mettete i commenti e soprattutto guardate i nostri video ciao ciao